Dietro di me c'è il villino Ruggeri, uno dei simboli più importanti e storici di Pesaro. Non per niente sorge accanto alla pala di pomodoro che è un altro simbolo. La grandezza e il limite di un simbolo è che appunto perché piano piano diventa simbolo si appiattisce, uno lo guarda e crede che tutta la verità sia nell'immagine esteriore, così ha il villino Ruggeri, lo stile Liberty, però le cose invece hanno un'essenza e una rappresentatività che sta dietro a quello che vediamo. E ci vuole qualcuno che sappia farselo trovare questa, può essere un poeta, può essere uno scrittore, in questo caso è un pittore. Ed è Fiorucci che sul villino Ruggeri ha eseguito alcune opere, praticamente una piccola serie, credo io me ne ricordo almeno quattro o cinque che ho visto esposte in una mostra personale, piccola personale fatta all'Alexander Hotel. Che cosa fa Fiorucci? Fiorucci fa quello che spereremmo di essere capaci di fare ognuno di noi, cioè va dentro e ci fa capire, ci fa vedere, ci fa vedere che il villino Ruggeri non è un'immagine fatta di mattoni, è un luogo di mistero, è un luogo di magia, è un luogo che viene da lontano. Il fatto che sia lì dal 1907 o comunque da quegli anni lì e sono solo mattoni, è quello che gli si è appiccicato sopra, è quello che noi vediamo guardandolo, soprattutto parlo dei pesaresi che hanno una certa età, che l'hanno visto da bambini quando venivano qui nel piazzale del Cursal dove c'era la fontana con i pesci rossi, poi più tardi quando il Cursal è andato giù e il villino Ruggeri è una cosa che ti accompagna, ma non è sempre quello. Secondo gli anni lo vedi in maniera diversa, lo senti in maniera diversa. Ecco, Fiorucci con un tratto leggero, aereo, misterioso ma chiarificatore, ha fatto capire, fa capire, ha fatto capire profondamente a me che cosa voglia dire andare a vedere esattamente cosa sta dietro in termini di sentimento, di passione nel villino Ruggeri. Cioè si dice giustamente, credo, che quando si guarda un quadro non si vede ma si sente. Ecco, lui e i villini Ruggeri di Fiorucci sono cose che tu non guardi, sono cose che tu senti e se l'ascolti bene senti dietro un fruscio profondo che la nostra storia è pesarese dai primi del Novecento. Grazie a tutti.